Banalizzando la notizia verrebbe da dire avete inventato il robot pizzaiolo, però andando oltre questa semplificazione voi state lavorando, state perfezionando una macchina che è capace di lavorare con gli oggetti deformabili. Questa è un po' la novità, anzi questa sicuramente è la novità e l'eccezionalità del prototipo che vediamo nelle sue spalle. Ci sono vari esempi che noi normalmente utilizziamo nella nostra vita comune che si rifanno proprio in questa categoria ed è una categoria di manipolazione robotica che è attualmente sconosciuta, quella che è la robotica industriale, la robotica comunemente diffusa nel mondo. Quindi questo prototipo ha questa unicità, usare algoritmi innovativi per capire come gli oggetti si deformano, come cercare di acquisire le informazioni fondamentali sulla loro deformazione e poter poi agire su questi oggetti per poter attuare quelli che sono i nostri desideri. Pensiamo a tutti i processi dell'industria alimentare, tutti operano con ingredienti che portano a produrre qualcosa che è deformabile, c'è bisogno poi di dare una forma, una conformazione particolare. Questa è un'operazione molto complessa, attualmente impossibile da parte dei robot industriali, noi stiamo lavorando su questo. Stiamo lavorando anche a compiti ancora più sofisticati in cui il robot non può per vari motivi agire direttamente sull'oggetto, ma può agire sull'oggetto indirettamente attraverso altri utensili. Pensiamo anche alla robotica chirurgica, noi vogliamo pensare a un robot che non necessariamente sia in grado di operare al posto del chirurgo, ma sia in grado di supportarlo con intelligenza. Perché se il robot riesce a comprendere che un taglio su un certo tessuto, che ha una certa deformabilità, causerà ad esempio un danno a una fibra nervosa che è lì vicino, il robot potrebbe correggere una distrazione ad esempio del chirurgo, potrebbe eliminare effetti di tremolio, capendo quali effetti di questo tremolio potrebbe avere sul tessuto molle. Ovviamente per poter capire questo c'è bisogno di modellare questi oggetti, questi tessuti molli, capire qual è l'effetto che la manipolazione robot sta avendo su questi tessuti, qual è l'effetto che questi avranno.